ciao ragazzi nuovo video tutto te oggi andiamo a vedere insieme un po di offerte che per questa primavera amazon ha pensato di offrirci diciamo subito che si sono offerte i prezzi sono calati però abbiamo visto prezzi decisamente minori però diciamo che se acquistate adesso qualcosina la risparmiate lo stesso quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere partiamo subito con un classico codot di quinta generazione da un prezzo di partenza di 64 euro 99 a 34 euro 99 questo diciamo che è la fase un po più evoluta degli eco e di quello di ultima generazione dopodiché abbiamo anche la versione con orologio da 74 euro 99 a 44 euro e 99 se poi invece volete avere uno schermo sul quale poter vedere video poter seguire le ricette fare video chiamate e tanto altro ancora trovate qui sul canale tutti i riferimenti per poter andare a vedere le caratteristiche anche di questo prodotto abbiamo l'ecoshow 5 di seconda generazione modello del 2021 da 84 euro 99 a 54 euro 99 andiamo su pollici un po più importanti con ecoshow 8 di seconda generazione si va da 129 euro 99 a 104 euro 99 arriviamo poi ad un eco diciamo tra virgolette base che però vi consente di fare qualsiasi cosa voi vogliate abbiamo l'ecodot di terza generazione da 49 euro 99 a 24 euro 99 abbiamo poi l'eco l'eco è uno dei prodotti l'unico prodotto forse di amazon che non abbiamo mai presentato ed è una versione più grande di un eco dot questo è di quarta generazione da 119 euro 99 a 84 euro 99 andiamo su un eco show ancora più importante l'eco show 10 terza generazione schermo che vi può seguire si può muovere può fare tantissime funzioni con una qualità audio eccellente da 269 euro 99 a 209 99 arriviamo ora al fratello maggiore di tutti gli eco show presenti attualmente abbiamo l'eco show 15 con schermo intelligente full hd la funzione fire tv già integrata da un prezzo di partenza di 289 euro 99 attualmente a 239 e 99 abbiamo poi la fire tv stick questa permette consente a qualsiasi televisore di diventare smart abbiamo una fire tv con lo streaming in hd da 44 euro 99 a 34 euro 99 abbiamo poi la più piccola delle far tv stick la light questa è la versione base da 34 99 a 29 euro 99 andiamo poi su un'altra fare tv stick 4k con telecomando con comando vocale e questa da 69 euro 99 a 39 euro 99 abbiamo quella versione più strana dei fire tv abbiamo il cube da 159 euro 99 a 139 euro 99 come avete potuto vedere ragazzi ci sono le offerte perché ci sono ma non sono prezzi sconti così importanti alla fine per cui chi può iniziare comunque trae un primo spunto uno sconto non importantissimo ma comunque c'è magari vi possiamo chiedere magari di partire dai link che vi lasciamo qui sotto in descrizione per poi comunque avventurarvi nelle varie offerte di primavera che non stiamo lì ad elencarvi perché sennò diventa un video lunghissimo e questo comunque se voi andrete a fare un acquisto dopo aver cliccato il nostro link a voi non costerà nulla come ben sapete ma a noi a prescindere ci aiuterà perché arriverà una piccola percentuale da parte di amazon con cui siamo affiliati e ci permetterà di crescere e reinvestire questo guadagno all'interno del canale per cui usate comunque a prescindere il link qui sotto e poi se dovete fare acquisti per fatti vostri fateli tranquillamente ma passando sempre dal link mi raccomando quindi ragazzi vi lascio qui sotto il link in descrizione di questi prodotti che abbiamo trovato in offerta diciamo che abbiamo preso gli eco perché è la fase iniziale per poter entrare nel mondo della domotica per quanto riguarda il nostro assistente vocale io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao